Fa parte del mondo della politica anche anch'essa, perché è politica, delle dimissioni, del dimissionamento, del siluramento del direttore del Tg1 Minzolini. Quello che non hanno potuto fare gli ascolti, quello che non hanno potuto fare i problemi di equilibrio o non equilibrio politico del giornale ha fatto una vicenda spinosa come quella di una carta di credito. Viene sostituito ad Interim Minzolini in attesa, chissà come e chissà quando, di trovare un nuovo direttore del Tg1. Noi restiamo qui comunque, sia ben chiaro.